Dopo aver trovato la vittoria del riscatto domenica scorsa nella cara casalinga contro il Pisa, la prima squadra a Maranto si prepara alla trasferta in terra casentinese, valida per la non aggiornata del girone di ritorno del campionato regionale di Serie C femminile. Le ragazze di Mister Acquisti affronteranno infatti in campo nemico la compagine del Casentino in un derby che su tutti i versanti si preannuncia acceso e sentito da entrambe le parti. Forti di un percorso di tutto rispetto con una collezione di 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, le aretine confermano la quinta posizione in gradatoria con 41 punti messi in cassaforte dall'inizio della stagione. Migliore la postazione del Casentino che grazie ad una concitata risalita messa a segno nel girone di ritorno della scorsa settimana detiene il titolo di terza forza del campionato con 45 misure del ranking generale. Una vittoria permetterebbe dunque all'Arezzo non soltanto di accorciare le distanze con le dirette rivali ma anche di guadagnare terreno prezioso rilanciandosi nei pressi della zona podio, approfittando anche dello scontro d'alta classifica tra Don Bosco Fossone e la vicecapolista Pontedera.